tratto da una mia diretta di un anno e quattro mesi fa poco dopo aver avviato la campagna di verità e giustizia per Irene Palacino vediamo questa è una situazione particolare importante e grave ho fatto un post dove appunto richiamandomi al grande Paolo Borsellino in questi giorni io parlo spesso di mafia perché come diceva questo grande eroe parlatene della mafia ovunque sia possibile parlatene perché parlare della mafia significa azzerare la mafia e così vale per la violenza parliamo della violenza che subiscono le donne e sono molte è una piaga sociale che comprende tutto il mondo e non solo l'Italia Irene Palacino è nient'altro che la rappresentante di tutte queste donne che subiscono violenze è la rappresentante di tutte queste donne oppressi dalla mafia questa storia andrà avanti e la porteremo alla conclusione e la conclusione sarà una una sola quella di verità e giustizia per Irene Palacino un volano che servirà a portare alla luce tutte le verità e giustizia di tutte le donne oppresse e violentate quindi condividete e fatevi sentire uniti si vince sempre parliamone parliamone e parliamone non siamo zitti e omertosi come si usa a fare tra tutto il club dei mafiosi ok in gamba andiamo avanti grazie a tutti